e Martedì trenta agosto buongiorno a tutti e bentrovati anche oggi al nostro appuntamento delle sette e trenta la prima diretta quella dedicata alla rassegna stampa. Noi siamo pronti abbiamo preparato nel nostro touchscreen i principali quotidiani per sfogliarli assieme a voi e dare un'occhiata ai titoli eh principali cominciando dalla stampa nazionale poi la la stampa locale il focus sullo sport c'è ancora il tema del caro energia in primo piano sia sulla stampa nazionale sia su quella eh locale allora iniziamo subito con la prima del Corriere della Sera spinta per il tetto al gas questa la novità della giornata di eh ieri l'apertura di Berlino per fissare un tetto al prezzo del gas e poi c'è l'ipotesi di sganciare i prezzi di elettricità e metano il tema del caro energia lo sappiamo è al centro anche della campagna elettorale e tregua e abbraccio tra Meloni e Salvini letta e la sfida dei voti al eh nord di spalla vediamo eh appunto sempre per quanto riguarda il tema del caro energia le aziende che scelgono di non eh riaprire dopo le ferie proprio per evitare i costi esorbitanti della bolletta energetica andiamo a centro pagina e andiamo in eh Ucraina per gli aggiornamenti dal fronte della guerra raid su eh Zaporizia e Kiev attacca a sud gli ispettori della IEA diretti alla centrale per verificare eventuali danni causati eh dai gli attacchi dai bombardamenti anche sulla centrale eh nucleare di eh Zaporizia a centro pagina una fotonotizia che poi ritroveremo anche su altri quotidiani nazionali che ci porta in Amazzonia addio all'uomo più solo del mondo ultimo della sua tribù senza contatti da ventisei anni era conosciuto come l'uomo della buca ed ha vissuto in solitudine per ventisei anni era l'ultimo superstite del territorio indigeno ehm di eh Tanaru in Amazzonia il resto della sua tribù è stato massacrato dagli allevatori che volevano espandere i eh pascoli andiamo su Repubblica e torniamo al dibattito sul eh prezzo del gas ora Berlino apre la Germania pronta a discutere la proposta italiana di tetto europeo al prezzo del metano decisivo il summit del nove settembre Ursula von der Leyen dice con la riforma del mercato europeo abbasseremo le eh tariffe il primo effetto eh di questa ehm di queste decisioni le quotazioni che scendono del venti eh per cento ora eh la tassa eh sugli extra profitti può salire anche oltre il venticinque per cento dice eh Orlando. Andiamo anche eh nel taglio centrale e vediamo anche qui dal fronte della guerra in Ucraina nel sud Kiev lancia a Kerson l'offensiva anti-russa e poi invece per quanto riguarda lo sport il tennis con l'ultimo torneo di Serena Williams il canto del cigno nero diventato l'idolo dell'America l'ultimo torneo l'US Open per eh la eh tennista. Nel taglio basso vediamo eh anche eh qui eh la eh morte dell'uomo più solo al mondo da ventisei anni era in fuga nell'Amazzonia. Dalla prima della repubblica andiamo sulla stampa gas alle stelle si muove l'Europa scrive la stampa. In arrivo il piano per sfuggire alla dipendenza da Mosca e rendere inefficaci le manovre speculative dei trader sulla Fonderlien avverte prepariamoci alla chiusura dei rubinetti russi. Accelerazione sul tetto ai eh prezzi. La stampa a centro pagina mette poi questa foto notizia eh dei funerali di eh Alberto eh Balocco. Ciao eh papà questa è la foto della eh figlia eh fortuna è l'ultima parola a cui viene da pensare invece fortuna sì abbiamo avuto la fortuna di essere parte della tua splendida vita e di avere te come marito padre amico fratello collega leader queste le parole che sono state lette dalla figlia di Alberto Balocco che lo ricordiamo è deceduto eh perché è stato colpito da eh un eh fulmine. Il manifesto extra profitti scrive il manifesto in apertura. I tempi non sono maturi per intervenire al governo mancano quasi dieci miliardi di tasse sugli extra profitti le aziende dell'energia non pagano o fanno ricorso. La Germania apre al tetto europeo del prezzo ma ci vorrà tempo mentre la speculazione inghiotte tutto. Andiamo su Libero. La sinistra nasconde la bomba immigrati polveriera Lampedusa scrive Libero. I giornali europei lanciano l'allarme sbarchi dal duemila e sedici mai così male. I costi due virgola cinque miliardi però in Italia per non imbarazzare il PD. Tutto tace scrive Libero. La verità tutti i disastri della sinistra che adesso dà lezioni sul gas. I veri padri del pasticcio in cui ci siamo infilati. In Europa comandano loro e non hanno risolto nulla dice la verità. L'aumento della nostra dipendenza da Mosca c'è stato con Monti e Letta. Pure Calenda sul rigassificatore in Friuli ha remato contro e ora fingono di avere soluzioni. Il giornale Draghi torni a bordo scrive il giornale. L'Unione europea stop imminente al gas russo poi apre al price cap a un tetto al prezzo del gas. Il premier nicchia per lasciare le misure al suo successore. Extra profitti solo un miliardo incassato su eh dieci per quanto riguarda appunto le tastazioni degli extra eh profitti. Il fatto quotidiano eh anche il fatto nel titolo di apertura eh scrive eh Draghi salga a bordo ma lui mette il broncio il pressing dei partiti dopo Conte pure gli altri gli chiedono un decreto però il premier fa eh l'offeso. Vediamo anche il sole ventiquattro ore titoli di stato fiammata dei rendimenti scrive il sole. Il Btp punta verso il quattro per cento oggi aste per otto miliardi aumentano anche per eh aumento anche per il eh Bund e poi vediamo nel taglio centrale gas e luce Bruxelles prepara un piano per separare i prezzi di gas e luce price cap fronte del sì più largo. Vediamo anche il gazzettino benzina proroga agli sconti scrive il gazzettino prezzo calmierato anche dopo il venti settembre aiuti sul gas Draghi prende tempo in attesa del vertice europeo. A centro pagina alla luxottica boom di ordini a settembre straordinari incentivati paga doppia a chi lavora il sabato. Per la cronaca andiamo nel taglio alto l'omicidio di Rovigo ucciso e fatto a pezzi la moglie confessa mi eh tradiva confessione shock la donna arrestata ricoverata in eh psichiatria sono stata io a uccidere e a fare a pezzi mio marito lui voleva lasciarmi e portare la sua amante a vivere in casa nostra ma l'amante dell'uomo in realtà esisteva solo nei vaneggiamenti della sua mente annebbiata nelle farneticazioni di una donna eh malata questo l'inizio dell'articolo che troviamo nel taglio alto del eh gazzettino torneremo più tardi sul gazzettino del Friuli adesso proseguiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e passiamo alla prima della gazzetta dello sport eh eccola qua è già derby e scrive la gazzetta nel titolo di eh apertura ehm campionato senza sosta e sabato la super sfida tra eh Milan e Inter ma di mezzo c'è anche un altro turno di campionato che inizia oggi Lukaku che botta Inter a San Siro con la Cremonese eh Romelu pronto solo a ottobre Inzaghi si affida a Lautaro Leao a tutta Milan Milan in casa del Sassuolo cento giorni dopo la festa Rafa fa gli gli straordinari chi ha il torna eh titolare e questa è la eh l'apertura della gazzetta dello sport Paredes volatona Juve giovedì stop agli affari trattative a oltranza col Paris Saint Germain per dare il regista ad Allegri e Fabian Ruiz sbarca a Parigi a De Laurentiis ventitré milioni dicevamo del turno di campionato dell'infrasettimanale quarta giornata che inizia oggi con Sassuolo Milan inter Udinese e Roma eh scusate Inter Cremonese e eh Roma Monza Udinese sarà in campo domani sera alle diciotto e trenta contro la Fiorentina poi andremo anche sulle pagine sportive dei eh quotidiani locali ma adesso andiamo avanti con la cronaca andiamo proprio sulla stampa locale andiamo sulla prima pagina del piccolo di Trieste cominciamo da qui oggi la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali con l'aiuto della regia andiamo a vedere proprio l'apertura del piccolo di Trieste che ha in primo piano ancora la questione Varsila la battaglia sui motori la Corea in calza il eh prefetto il console eh generale coreano chiede l'imbarco in tempi rapidi oggi eh Vardè eh il prefetto appunto incontra i eh sindacati ricordiamo che la città eh si è mobilitata proprio sul caso Varsila è arrivata la nave coreana che dovrebbe eh caricare i motori prodotti appunto nello stabilimento triestino ma c'è eh la volontà la mobilitazione proprio per rallentare queste operazioni di imbarco sabato ci sarà una manifestazione importante in città e proprio per questo tra l'altro la gara di eh campionato tra Triestina e Pordenon è stata posticipata alle ventuno di sabato era in programma nel pomeriggio rimanendo sulla prima del piccolo vediamo a centropagina questa fotonotizia che ci porta a parlare eh del settore terziario l'allarme dei sindacati dai bar ai negozi cinquecento posti a eh rischio chiudiamo il piccolo e andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto cominciamo con il messaggero Veneto di Udine industria legno e cartiere i settori rischiano lo stop per il eh caro eh energia al rientro dalle ferie si valuta il ricorso alla cassa integrazione troppo alti i prezzi dell'energia e poi la cronaca andiamo a centropagina e vediamo questa fotonotizia che ci riporta a venerdì sera agli alla rissa tra eh tifosi dopo la gara tra Monza e Udinese sei arrestati eh sei arrestati e eh scarcerati allora andiamo a vedere i particolari su questa notizia gli ultimi aggiornamenti arrivati nella giornata di ieri nel prossimo servizio tre tifosi del Monza e tre dell'Udinese sono stati arrestati domenica dalla polizia con l'accusa di rissa aggravata a seguito degli scontri con lanci di cocci di bottiglie sassi e altro al termine del match di serie A Monza Udinese di venerdì sera durante i tafferugli è rimasto ferito un poliziotto gli arresti in flagranza di ferita sono stati eseguiti tra Monza Udine Pordenone e Venezia disposti inoltre dal questore della provincia di Monza e dell'Abrianza ulteriori approfondimenti per identificare le persone coinvolte nell'aggressione intorno alle 22 e 30 in un ristorante in zona cederna ai danni di una famiglia composta da sette friulani residenti in Svizzera come riporta la nota della stessa questura mentre il nucleo familiare stava cenando in presenza di un bimbo di 11 anni è stato aggredito con spintoni ed è stato dileggiato da un gruppo di una trentina di sostenitori del Monza riguardo invece ai tre tifosi del Monza e tre dell'Udinese arrestati per gli scontri avvenuti intorno alle 21 e 40 stando alla ricostruzione della locale questura finita la partita vinta dall'Udinese una ventina di ultras friulani a bordo di quattro minivan si sono fermati in viale Sicilia nei pressi di Cascina Cantalupo dove sono soliti ritrovarsi i tifosi del Monza in quel momento circa una trentina tra le due tifoserie sono iniziati subito i tafferugli con lanci di pietre, cocci di bottiglie, aste di bandiera e cartelli stradali sradicati. A bloccarli sono intervenuti i poliziotti uno dei quali è finito in ospedale con una prognosi di dieci giorni. I tre ultramonzesi due 44 anni e un diciannovenne hanno alle spalle precedenti di polizia per resistenza pubblico ufficiale rissa manifestazioni non preavvisate ed erano già stati colpiti da Daspo. I tre tifosi udinesi un 48enne un 42enne un 22enne vivono rispettivamente nelle province di Pordenone Venezia e Udine. Per quattro dei sei arrestati i tre monzesi e un udinese riferisce ancora la questura di Monza è stata disposta alla misura degli arresti domiciliari mentre gli altri due sono stati rimessi in libertà e indagati a piede libero. Intanto proseguono gli accertamenti della polizia per identificare ulteriori tifosi coinvolti negli incidenti del dopo partita. Andiamo avanti con la cronaca sempre sulla prima pagina del messaggero veneto di Udine. Vediamo di spalla incidente a Mortegliano gravi due donne dopo lo scontro frontale avvenuto a Chiasi Ellis e poi a San Pietro al Natisone in fiamme il chiosco dell'alberone karting. Ancora cronaca con un altro incidente stradale avvenuto a Maiano automobilista sfiorato da una putrella vettura distrutta. Andiamo a vedere nelle pagine interne anche le foto di questo incidente si salva dalla trave sporgendosi dal finestrino. Nello scontro tra un pick up e un auto articolato una putrella ha sfondato il parabrezza rischiando di centrare il conducente. Ancora da chiarire la dinamica esatta di questo incidente. Incidente anche a Ruda sull'ex provinciale e il sindaco dice ennesimo incidente ex provinciale pericolosa. Andiamo a vedere anche le altre notizie in primo piano si parla di scuola, si ritorna sui banchi ma anche zaini, libri e astucci costano di più. Rincari dunque anche per gli acquisti per iniziare l'anno scolastico non dei rincari ma della riorganizzazione del sistema scolastico. Abbiamo parlato ieri con l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolene. Allora andiamo a sentire quello che ci ha raccontato. Eminente l'inizio della scuola, la regione si sta preparando su vari fronti. Un inizio della scuola che sarà reso più complicato dell'aumento delle bollette del caro energia? Sarà un momento complicato perché è un momento complicato della società. Nelle prossime settimane noi definiremo l'intervento importante che come ogni anno da due anni a questa parte facciamo nei confronti delle scuole della nostra regione per garantire la presenza degli istituti e la presenza soprattutto di insegnanti e di personale necessario all'apertura delle scuole su tutto il territorio regionale. Non sono per diminuire il tempo scuola, neanche le ore di lezione. Molte scuole già non rimangono aperte il sabato ma penso faccia parte di una scelta che spetta le famiglie. Chiudere le scuole è vero che può produrre l'effetto positivo di risparmiare qualche cosa per quanto riguarda la bolletta energetica causa sicuramente dei grandi problemi a chi invece ha scelto magari un tempo scuola prolungato rispetto alla cura dei figli. A proposito del personale necessario alla riapertura delle scuole avete parlato anche di necessità di una riorganizzazione? La riorganizzazione dei plessi scolastici non parte dalla mancanza del personale ma parte da una cosa molto più grave che è la perdita di 5.000 bambini nelle classe prime in due anni. Va sicuramente riorganizzato il sistema scolastico inteso in materia di plessi soprattutto su tutto il nostro territorio. È qualche cosa che è stato rimandato. Torniamo sulla prima del messaggero veneto di Udine si parla anche di febbre del Nilo 18 casi in regione disinfestazioni nelle vie di Udine sono scattate nella serata di ieri ecco la notizia in primo piano sulla fascicolo di Udine del messaggero veneto sono 18 i positivi al West Nile seconda disinfestazione in città. Ieri notte operatori specializzati in azione in diverse strade del capoluogo a Pazian di Prato e Campo Formido. Ieri abbiamo sentito anche il direttore del settore del settore prevenzione della regione Palei proprio per fare il punto su questi interventi allora andiamo a sentire quello che ci ha raccontato. Disinfestazione delle zanzare stanotte si comincia anche a Udine a che punto siamo? Beh diciamo che questa notte iniziamo la parte sud di Udine col comune di anche compreso comune di Campo Formido di Pazian di Prato proprio in virtù del fatto di ritrovamento di un uccello selvatico un colombo in questo caso e quindi la norma prevede che in un raggio di 4 chilometri venga effettuata una disinfestazione. Verrà disinfestate solo ed esclusivamente le strade alberate e aree verdi, parchi e i cimiteri. Non si entra assolutamente negli abitati urbani insomma. A scanso di equivoci visto che tanti chiedono questo punto sono sostanze che non sono tossiche per l'uomo non sono inquinanti. Esatto non sono sostanze e la cipermetrina sostanze che poi nel giro di due ore si disattivano a livello territoriale non rimangono attaccate le piante non rimangono attaccati i fiori quindi e poi la nostra tutela prima è nei confronti degli apicultori abbiamo stabilito che non venga fatto nessun trattamento a distanza di 300 metri minimo dagli apiari proprio per preservare il nostro patrimonio apistico. Come si spiega la presenza di questo virus in animali diversi in punti diversi del territorio? Questo fa parte di un piano epidemiologico che stiamo facendo da anni noi ormai cominciamo con delle trappole in già in marzo aprile per vedere il riscontro della presenza del virus nelle zanzare abbiamo 19 trappole su tutto il territorio regionale dopodiché il piano prevede anche l'acquisizione di uccelli selvatici siano essi ritrovati morti o abbattuti e di cavalli perché il cavallo è diciamo un cul de sac la malattia finisce lì come nell'uomo. E adesso spostiamo la nostra attenzione sulla prima pagina del messaggero veneto di Pordenone vediamo che anche qui i titoli di apertura e la fotonotizia a centro pagina sono le stesse che abbiamo visto sull'edizione di Udine allora andiamo di spalla e vediamo caos viabilità parcheggi selvaggi all'uscita del centodiciotto a Pordenone e poi il presidente del teatro Verdi aperto al territorio una grande stagione ancora residenti svegliati a Porcia suona di notte l'allarme in municipio e a cane va multa in arrivo per chi abbandona i bidoni dei rifiuti sul messaggero veneto di Pordenone si parla anche dell'interporto di Pordenone che raddoppia le tratte tra Italia e Germania sulla prima del fascicolo di Pordenone vediamo i parcheggi selvaggi appunto all'uscita del centodiciotto viabilità ospedaliera i soldi non bastano via del traverso e occupata dalle vetture in sosta vietata a Mirante chiederemo alla regione altri fondi per le strade e poi vediamo un incidente in via Roveredo scontro frontale fra due auto feriti i conducenti andiamo adesso sulle pagine del gazzettino il gazzettino del Friuli vediamo anche qui i titoli in primo piano covid il falso record friulano è la regione con il più alto numero in Italia perché sono stati registrati tutti i decessi che avevano il tampone positivo il dato reale però simile a quello della media nazionale se si considerano le vittime causate esclusivamente dal virus e questo per quanto riguarda appunto i decessi da covid o con il covid in Friuli e Venezia Giulia anche qui a centropagina scontri a Monza ultra arrestati il caldo che ha ridotto anche la produzione di latte per il troppo caldo le mucche perdono il 40 per cento del latte Friuli doc steward in piazza per un Friuli doc in tutta sicurezza i controllori saranno ingaggiati dal comune potranno tornare in centro anche sotto Natale per la cronaca vediamo anche qui fiamme paura la pista di go kart danni ai locali a San Pietro al Natisone di spalla la politica strade treni che mancano infiammano la campagna elettorale e poi i ricorsi bloccano i sorteggi dei simboli nel taglio basso vediamo un area camper per i turisti della Val Natisone è stata inaugurata a Cividale del Friuli e poi il calcio con Biol Enointing che si giocano il posto per blindare la difesa dell'Udinese domani sera contro la Fiorentina e allora andiamo subito sulle pagine sportive del Gazzettino ecco qua l'articolo che apre le pagine sportive locali e appunto vediamo l'articolo richiamato in prima Nointing e di Iol si giocano la maglia domani sera lo sloveno potrebbe giocare titolare in difesa al posto dell'olandese e Wallace potrebbe fare spazio ad Arslan queste le ultimissime in vista della gara di domani sera per quanto riguarda il mercato invece Ezibue c'è la firma sul contratto Semedo una gioia essere a Udine andiamo anche sulla pagina successiva e vediamo per quanto riguarda il Pordenone Nero Verdi festa serale per caricare la squadra appuntamento questa sera al De Marchi per presentare la squadra ai tifosi intanto è stato confermato che sabato in casa della Triestina si giocherà alle ventuno sempre per quanto riguarda lo sport andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto di Udine vediamo anche qui l'apertura del fascicolo sportivo Udinese Fiorentina sfida in famiglia tra papà Andrea e il figlio Riccardo l'allenatore bianconero sottile contro l'attaccante viola in serie A è successo solo tra i di Francesco in un Roma Bologna vent'anni fa lo teneva in braccio mentre domani se lo vedrà sfrecciare a pochi metri dalla sua panchina il tempo che passa a casa sottile è ben rappresentato nell'attesa sfida tra padre e figlio che domani eh guarnirà Udinese Fiorentina come una ciliegina sulla torta e qui vediamo appunto una foto di sottile con il figlio eh tanti anni fa quando giocava appunto a eh Udine a dirigere la gara sarà Mariani con lui quattro vittorie quattro pari e due sconfitte ancora andiamo a vedere anche eh il punto ehm per quanto riguarda eh la squadra a Pereira ancora sulla fascia Biola al centro della difesa e Arslan al posto di Wallace questa è le ipotesi che fa il ehm messaggero Veneto nella pagina successiva invece vediamo per quanto riguarda il mercato e Zibue e telenovela finita ieri arrivato a Udine per firmare un quadriennale ancora andiamo a eh vedere anche le ultime che ehm riguardano la maratonina in questo caso per quanto riguarda lo sport la maratonina di Udine che si correrà il diciotto settembre l'evento giunto alla ventiduesima edizione farà parte di un circuito saranno comprese le gare di Trieste Verona e eh Palmanova e infine un flash anche sul basket l'APU mette subito in vetrina la coppia Mian Gaspardo nei test nel test vinto ottantanove a ottanta con San Vendemmiano i due frullani segnano trenta punti Martellossi dice le cose migliori nei primi due quarti poi siamo un po' eh calati per quanto riguarda Cividale Eagles da domani in ritiro a Lignano Pillastrini chiama tredici giocatori chiudiamo le pagine del messaggero Veneto e andiamo a vedere adesso anche la prima di Corriere dello Sport e tutto sport per chiudere questa nostra rassegna stampa sportiva Corriere dello Sport Lukaku ne salta sei titola il Corriere l'Inter non avrà il Belga nel derby e col Bayern oggi tre big in campo in eh campionato distrazione per Romelu torna a ottobre ci sarà Zecco con la eh Cremonese Milan Rebic e eh Origi K.O. tocca a Girù e Murigno punta su eh Abram andiamo eh a ehm leggere anche la notizia che troviamo nel taglio alto eh si parla appunto dell'ipotesi di un arrivo di Ronaldo a Napoli Ronaldo sul filo l'idea rimane viva anche senza Ozyman allo eh United. Il tutto sport apre eh con eh Di Maria punta il Paris Saint Germain segnali positivi eh dal Fideo forse in panchina domani con lo Spezia. Parede Siuve si tratta oltranza all'assist da eh Fabian Ruiz a Parigi. Milik gioco con Lewandowski posso farlo anche qui con Vlaovic e eh questa è appunto l'apertura di eh tutto sport con questa prima pagina noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi e prima di salutarci andiamo a vedere come sempre gli appuntamenti di questo martedì sul nostro canale l'informazione ritorna in diretta alle dodici e poi ancora alle sedici alle diciotto l'appuntamento quotidiano con pomeriggio calcio alle diciannove il Tg sportivo seguito dal Tg Cronaca alle diciannove e quindici dal Tg News Pordenone alle diciannove quarantacinque alle venti e quarantacinque lo speciale campionato primavera uno e alle ventuno e quindici il documentario su Venezia capitale del eh cinema alle ventidue e trenta l'ultima edizione del Tg il Tg della notte. Noi ci fermiamo qui per il momento come sempre grazie per la vostra attenzione vi lascio le previsioni del tempo e ci rivediamo più tardi in diretta alle dodici. Grazie ancora e buona giornata. Amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì che partirà all'insegna del bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso ma a fine giornata vedrà un nuovo peggioramento del tempo a cominciare dalla fascia alpina prealpina con il ritorno di acquazioni temporali che poi si estenderanno anche le zone pianura fino a raggiungere le coste adriatiche. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Udine e Pordenone dicevamo inizio di giornata con il sole temperature in effetti che riescono ancora a toccare i trenta trenta un gradi all'ombra al sole anche qualcosa in più ma seconda parte del giorno molto più variabile e stabile in particolare la serata con l'arrivo di queste equazioni e questi temporali. Situazione analoga tra Gorizia e Trieste con una prima parte della giornata che regalerà ancora ampie zone di sereno temperature estive ma alla fine del giorno qui davvero solo in serata l'arrivo anche di qualche acquazzone. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.